ciao a tutti buon natale e un sereno e felice 2024 e per quanto riguarda noi ci vediamo a gennaio ciao dalla rubrica fotogrammi scena buon natale e felice anno nuovo a tutti ci rivediamo a gennaio come tutti gli anni arriva il natale e noi naturalmente vi facciamo tanti auguri aspettiamo da gennaio come al solito con tutti gli appuntamenti per quanto mi riguarda con la musica quindi buon natale un fantastico 2024 per voi appresso da fabio su titolo tv e su redazione di titolo tv e faccio a tutti voi tanti 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 auguri di buon natale e un felicissimo 2024 unisco anch'io per farvi gli auguri di buone festività che possiate passarli in tranquillità e con chi amate di più e soprattutto che siano un buon finale è un buon inizio del 2024 abbiamo chiuso quest'anno con tantissime soddisfazioni speriamo di aprirlo anche l'anno prossimo con altre tante noi saremo sempre qui raccontandovi ciò che il mondo ci circonda buone feste a tutti